Sono Anna Lisa di Extinction Rebellion, siamo in piazza oggi perché è un anno da quando la regione Piemonte ha promulgato la dichiarazione di emergenza climatica, un anno nel quale a questa emergenza non sono assolutamente seguiti i fatti. Dichiarare emergenza come abbiamo tutti visto e vissuto sulla nostra pelle con l'emergenza sanitaria del coronavirus vuol dire informare quotidianamente la gente, vuol dire prendere provvedimenti stringenti che hanno un'influenza sulla vita di tutti. Invece la dichiarazione di emergenza della regione è stata una dichiarazione di emergenza vuota, fatta sull'onda di un anno in cui i ragazzi di Fridays for Future protestavano, ma semplicemente per opportunismo. Noi siamo qui per ricordare a tutti che siamo davvero in emergenza climatica ed ecologica e che è necessario fare qualcosa. Ridurre le emissioni, la regione si impegna a ridurle del 50-60% entro il 2030, questo vuol dire ridurre del 7% ogni anno con provvedimenti rispetto alla mobilità, rispetto al farà produttivo e ai consumi. maggiorot TRX I 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